Cominciamo col vederne le facce. I due sono universalmente amati, ma hanno facce diverse. Sono divisi da circa trent'anni, Klimt nasce nel 1862 e Schiele nasce nel 1890. Quindi Klimt è un autore che vive una stagione anche ottocentesca, la quale non tocca a Schiele. Muoiono entrambi nel 1918 e vedete che hanno espressioni piuttosto diverse. Quella di Klimt è l'espressione di un uomo appagato, che non ha turbamenti e nel rapporto con il suo gatto manifesta una natura coerente e armoniosa con la realtà. L'altro, vedete, ha il tipico volto di una persona turbata, se non disturbata. E anche l'atteggiamento della mano, che poi ripeterà in alcuni suoi autoritratti, sembra indicare una deviazione. Ma guardiamone alcune opere. Klimt, nel 1901, un'apertura di secolo, quando, per capire cosa capita in Italia, uno dei nostri grandi pittori che si chiama Perizzo da Volpedo dipinge il celebre Quarto Stato, che tutti voi conoscete, dipinge questa giuditta, questa peccaminosa giuditta Oloferne, in cui la testa di Oloferne è tagliata a metà. E l'oro, con un richiamo al mondo bizantino, quindi un richiamo ai mosaici, a tutto quello che lui ha guardato e studiato, è sul fondo di quel volto di una donna estremamente attraente, fascinosa, ma com'è, lontana e con una dimensione che mi fa venire in mente Jennifer O'Neill, per chi la ricorda, nella Innocente di Visconti, un'apparizione meravigliosa di una donna che è assente da sé e da sé stesso. E lei, che ha ucciso, non sente il senso di colpa, sente la distanza da quell'animale che tiene in mano, quindi un manifesto di femminismo, di prevalenza del potere femminile, che è stato rappresentato prima di tutte da Artemisia Gentileschi, un altro caso importante di tabù di cui si potrebbe parlare. E poi nel 1902, il fregio di Beethoven e la sua opera più importante, dove vedete questo motivo di corpi fluttuanti in uno spazio indefinito, l'elemento del mostro al centro, non è senza ragione che queste opere, in cui c'è una proiezione di una interiorità turbata e anche molto visionaria, coincitano con l'inizio della psicoanalisi. In quel momento Freud sta entrando in un mondo segreto, penetra in una dimensione sconosciuta e la pittura sembra seguirlo. Per conquistare Danae, non facendosi riconoscere, Giove diventa moneta e le monete entrano nel grembo. E guardate cosa diventa, quel motivo che tanti di voi ricordano nei dipinti classici di Danae, in Klimt. Lei si arrotola su se stessa, come in una specie di bozzolo, e gode fattendosi coprire di oro, un oro che la penetra, che le viene addosso, ma il piacere è sconfinato, è una complicità. Lei sente che lì c'è Giove che si è manifestato con quella pioggia dorata. E nessun interprete è riuscito a far sentire il piacere fisico, la dimensione sensuale, come in questa immersione della quale la Danae è proposta in questa rappresentazione del 1907. Se questo è un bacio di cui noi sentiamo, alla fine, la infinita sensualità, questa specie di fluido erotico che si diffonde nelle forme, negli intarsi degli abiti, delle vesti, dei tessuti, del fondo oro, guardate come interpreta in modo perverso, invece con i suoi tabù, il bacio Egon Schiele nel 1912. Si tratta in questo caso, altro tema tabù, nel bacio fra un cardinale e una suora. Non è normale, il cardinal Zuppi, i cardinali che conosciamo, il cardinal Biffi, il cardinal Fisichella, normalmente non baciano suore, diciamo la verità. Pensando alla Chiesa Schiele, gli viene naturale pensare a un cardinale che si va a una suora. Non è male, anche qui vedete che è molto diverso lo stile. C'è un grande abito rosso, che è quello del cardinale, e l'abito nero della suora. Scoperte sono le gambe dell'una e dell'altro, quindi anche qui c'è un naturalismo piuttosto vivido, una volontà di disegno che fa riconoscere l'anomia del corpo. E poi c'è, come dire, lei che un po' si sottrae, lui che un po' le sta addosso, e alla fine in questa onda, in questo grande mantello rosso, lei viene contenuta. Non sembra del tutto, come dire, sgradire, insomma, sembra, fai pure, se lo dice un cardinale. Cosa deve fare una suora? Può dire di no a un cardinale? No, mi dovete spiegare. Se arriva il cardinale, c'è la suora del convento dell'Agostiniane, e dice, scusi, me la dà? Se me l'avesse detto Alcide, me l'ha detto il cardinale, eccolo qua. Questa è la psicologia, il tabù di sé, il cardinale, ha sempre ragione, infatti lui è lì tranquillo. Vedete come la stesura dei colori del volto determini un effetto che poi diventerà quello della pittura espressionista di Cocosca. Lei invece, come più un po' ritrosa e un po' candida, ha un volto in cui si sente un leggero dubbio, leggero però leggerissimo, non si può. Quindi questo è Schiele. Schiele è turbato, perturbato, disturbato, non affronta mai un tema in modo, come dire, universale, in cui si senta che il piacere innonda il mondo, come è nel bacio di Klimt. Eccoci arrivati a come lavora su se stesso Schiele con l'autoritratto. Vedete questo porsi un po' di tre quarti, come avete visto nella fotografia, questo sbilanciarsi delle spalle, questa posizione sghemba che è una presentazione di sé turbato, tormentato, che anticipa quello che troveremo in un grande artista di seconda metà del secolo, che è Francis Bacon. Ecco, tutto quello che Bacon ha fatto, tutto quello che ha fatto Giacometti, con questo rarefarsi delle forme dei volti, questo grandissimo artista così più vicino a noi, Giacometti e Bacon, è qui anticipato, siamo nel 1912, in questo rappresentare il volto come straziato, come ferito e soprattutto messo in maniera tale da non essere in favore, ma in sfavore. E poi dietro, se ne è poi parlato tanto negli anni scorsi, di un fiore che si chiama Alkekenji, che sembra messo là dietro per indicare come la natura può avere delle forme più morbide di un volto, il contrasto fra la morbidezza della natura e la durezza del corpo e del volto di un uomo. Grazie.